Come Will Scuola chiediamo il pieno rispetto del contratto sulle assegnazioni. La Will Scuola ha firmato una proroga a quello che era il contratto precedente, nel quale erano previste nessun vingolo per il personale docente, tant'è che anche i docenti FIT, Assunt 2019, hanno avuto la possibilità di fare assegnazione provvisuale. Questa posizione del Ministero è totalmente illegittima, priva di ogni fondamento giuridico e per questo chiediamo il rispetto delle norme contrattuali. Saremo presenti anche con altre azioni, anche a chiedere un'eventuale interpretazione autentica del contratto.